Benvenuti, grazie. Sindaco, che cosa ne pensa di questo progetto che viene presentato qui alla Camera di Commercio e in particolar modo parliamo di sviluppo sostenibile? Ci riferiamo al Porto. Il progetto del Porto è dall'inizio del mio insediamento che stiamo interloquendo con l'autorità portuale, con Agostinelli, il Presidente e con la Camera di Commercio. Inizialmente c'era questo progetto del Masterplan, questo progetto importantissimo di sviluppo di tutta l'area però 330 milioni di euro non li avrebbe messi mai nessuno. Non si tratta di un ripiego questo adeguamento tecnico funzionale ma è un modo per iniziare a cambiare il Porto di Clotone perché nelle condizioni in cui lo stiamo vedendo oramai da diversi anni è veramente insostenibile. Vediamo uno stato di degrado ma anche importanti servizi come l'antincendio. Tante navi sono state costrette a portare e a sbarcare le loro materie prime a Corigliano per cui c'è da lavorare e l'impegno dell'autorità portuale è quello di cominciare a fare queste importanti opere. Ma è solo l'inizio perché questo adeguamento tecnico funzionale consente adesso e consentirà adesso di fare questi lavori che sono circa 20 milioni di euro ma è il punto di partenza. Da anni a Crotone non si fa quasi nulla sul Porto. Una domanda che le faccio. Sui gettoni di presenza che cosa ci può dire? Sui gettoni di presenza e sulle commissioni che sono fatte posso dire che è tutto lecito quello che stanno facendo. Nel senso che la legge prevede le commissioni, la legge stabilisce un compenso massimo che i consiglieri devono prendere. Per cui finché si lavora per la città benvengano. Poi se qualcuno dei consiglieri ritiene che l'argomento di una commissione non sia utile e che non meriti la partecipazione è una scelta personale che fanno i singoli consiglieri.